Ciao a tutti ragazzi qua da Hexta, oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online con nuove gare ragazzi Questa gare si chiama Need for Speed Rivals, sicuramente ispirata a Need for Speed, comunque partiamo subito Allora ho preso la Italy GTO, c'è la neve ragazzi, atmosfera veramente unica e si parte Questa è una lobby che ho trovato online, passiamo subito in prima posizione vai Vediamo un po', vediamo un po', sicuramente ci sarà il macello ragazzi, la devastazione, vediamo Mamma mia, ho trovato la lobby online così ragazzi, mi sono unito ed effettivamente Vai ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, mamma mia, la neve giustamente fa, fa ragazzi il tutto molto più complicato Allora non è stante la gara, quindi sicuramente è una corsa praticamente di 98 checkpoint, no Perché 98 checkpoint? Mamma mia, vabbè sicuramente ragazzi ci sarà un po' di devastazione varia Io spingerò varie persone probabilmente, ah sì però è stante, è stante Pensavo non fosse stante, invece sì, un minimo sì Abbiamo dei tubi, oh, ok vai checkpoint preso, mamma mia non si vede nulla, c'è proprio la nebbia Si va ragazzi, si va, quello intanto mi ha superato, io ora, cioè sicuramente ci saranno auto migliori della Italy GTO Però ho preso questa qui, vediamo, beh devo dire che non è male ragazzi, neanche sulla neve Cioè alla fine, a meno che non, qualcuno non mi spinge, devo dire che non è malissimo Intanto non si vede nulla, cioè, non si vede nulla Calma Eh ragazzi qua è facile che qualcuno possa spingermi Sì comunque la gara è stante, vai perfetto Oh, oh Eh lo so, l'ho colpito io, l'ho colpito io un po' però mi dispiace la neve E la neve non è, non è colpa mia Cioè in realtà sì ragazzi però Ci sta, ci sta, tanto siamo qua in sessione, c'è il macello ragazzi Allora comunque sono in sesta posizione Vediamo un po' di recuperare con la scia Rallentamento, perfetto Vai comunque bella gara, bella gara Vediamo Cioè peccato per la luminosità diciamo Perché Cioè che ore sono? Sono le 6 del mattino su GTA Però ovviamente non si vede, cioè c'è sempre nebbia ragazzi Anche se fosse stato giorno perfetto Però bellissimo Atmosfera veramente super particolare Oh bella gara, veramente Mi sta piacendo assai però così no Vai 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 Si passa in seconda Si passa in seconda Diciamo che il primo va veramente Veramente forte Ora non so se sia il primo di prima però Cioè quantomeno il primo di prima andava veloce E vabbè qua Mamma mia quello proprio È andato fuori malissimo Oh Ok Oh comunque la neve è bellissima ragazzi Cioè da quella difficoltà in più Che rende la gara Rende la gara veramente più Più bella non lo so Calma Eh ok qui stavo Stavo sbandendo io Il primo ha sbagliato Il primo ha sbagliato Siamo qua Calma Eh la scia ora è un bel problema Perché Mi potrebbe Uuuuh Ecco infatti Rientra Perfetto Mamma mia è rientrata l'auto La scia ragazzi potrebbe Fregarmi diciamo Sì infatti l'auto qua Se ne va Se ne va Con la scia prendiamo troppa velocità Cioè ci vorrebbe un bel punto Ora tipo rettilineo Intanto siamo a 44 checkpoint Quindi alla fine Oh L'ho preso Andiamo indietro ragazzi Mamma mia tutti qua sono finiti Tutti qua sono finiti Niente il primo se n'è andato Dobbiamo recuperare assolutamente Dobbiamo volare assolutamente Gentilmente Niente spinte Anche se finora sono stato io Quello che ha spinto Quindi diciamo che Sono stato un po' cattivo però Vai Perfetto Si vola ragazzi Eh il primo è sempre qua Oh oh Calma calma Stai calmo Stai calmo Va bene dai dai Posso prendere la scia Si recupera Si recupera ragazzi Si recupera Forse Andiamo Vai Ora qui cosa abbiamo Un bel Wall ride Mamma mia Poverino Quello la Mi dispiace Mi dispiace Tantissimo In realtà no Calma Mamma mia ragazzi Troppo macello State calmi Dovrei essere Si sono in seconda Vabbè Siamo tutti qua Quindi Non mi spingere fuori Mamma mia ragazzi Mi sono salvato Qua tantissimo Ok perfetto Siamo rimasti In due Oh Ok ce l'ho ancora Ce l'ho ancora Vai vai Allora il primo è qui Devo dire che la gara Sta andando molto bene Ragazzi 55 checkpoint E vabbè Si può recuperare Perché comunque C'è sempre la scia Quindi quelli Quelli dietro Che si sono massacrati Tra di loro Sicuramente Recupereranno In qualche modo Quindi Non c'è Non c'è problema Penso Ok Ok niente Il primo è qui Siamo Siamo qui Ragazzi Siamo qui Sono passati in prima Beh diciamo che se qua me la gioco bene Forse Ce la potremmo fare Arrivare nella prima Perché Comunque siamo ormai Vicini alla fine Ok perfetto Mamma mia Diciamo Queste sono le strade peggiori Da fare con la neve Ragazzi Però ripeto Sono bellissime Però Correndo Sapendo che ci sono gli altri dietro Cioè Devi proprio correre tanto Mamma mia Si sbanda Entriamo nel tunnel infuocato Vai Ora c'è il turbo Dove si va Ok perfetto Abbiamo Un tracciato Oh Mamma mia Ovviamente la gara Io non credo che sia fatta apposta per la neve Ragazzi Vi dico la verità Quindi Diciamo che quella zona là Non era proprio Il massimo Cioè Se rallenti Vai giù Comunque Si stiamo arrivando alla fine ragazzi Manca poco Manca poco Gli altri però sono praticamente Vicinissimi Quindi Facciamoci sto voleride In tranquillità Col turbo Spero che gli altri magari possono Sbandare tra di loro Possono fare qualcosa Vai Andiamo Mamma mia Sono dietro Quelli Stanno Stanno arrivando Si stanno avvicinando tantissimo ragazzi Si stanno avvicinando tantissimo Perché ovviamente non si spingono Andiamo Eh mi hanno superato Mamma mia Cioè Quello Mi ha superato Proprio con forza Devo dire Vai che si vola Ok ragazzi Mamma mia Che gara Che gara Calma Eh qua c'è la scia Eh Ok dai che ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Manca poco ragazzi Manca poco Qui c'è un altro che supera Perfetto Cos'è Cos'ha fatto quello Non lo so ragazzi Quello ha frenato Oh Uh Ok ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Perfetto Ok quell'altro mi ha superato Calma Mamma mia ragazzi Comunque intensa Intensa Combattuta Bellissima gara Spero che non Non mi fregano all'ultimo Ok perfetto Quelli si sono devastati Credo quindi Atterriamo subito E ripartiamo Dai che qui siamo Siamo veramente alla fine ormai Perfetto Uno è saltato in aria Si riparte ragazzi Di nuovo Prima posizione Vai Si manca poco ragazzi Ormai mancano Manca veramente poco Pochissimi checkpoint Ok Cioè che cosa potremmo avere Potremmo avere un altro World Ride E Niente Cioè abbiamo Un altro World Ride Dopodiché c'è la discesa Forse col tubo Cioè quello mi ha superato Tantissimo Andiamo da riprendere subito E quindi C'è La discesa col tubo Dopo il World Ride Da quello che sto vedendo E poi praticamente La gara è finita Quindi Dobbiamo volare Verso Verso la prima posizione E comunque credo che l'auto Di quello Vada più veloce Perché Cioè Non riesco più a prenderlo Perfetto Qui cosa abbiamo Io faccio ragazzi Il giro qua Prendiamo velocità Ok Turbo Sono di nuovo in prima Ma Ma l'auto Ma l'auto di quello È più veloce Per forza Cioè C'è voluto troppo tempo Prima di prenderlo Calma Stiamo calmi C'è il World Ride Qua Oh Mamma mia ragazzi All'ultimo sono passato Calma 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 Perfetto Di noi in prima Siamo tutti qua Fortunatamente nessuno spinge Almeno per ora Cioè quello Oh Cioè ho detto nessuno spinge E mi hanno spinto Incredibile Ma comunque il primo All'auto C'è qualcosa proprio Ragazzi Vai Passiamo qui dentro Siamo arrivati alla fine Siamo arrivati alla fine Sorpasso Datemi l'ultimo checkpoint Datemi qualcosa Siamo ormai veramente alla fine Ragazzi Eh Ci stiamo avvicinando Eh Non lo so Con la scia Sicuramente Sicuramente Infatti Quello mi è superato Vai 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 Mancano due checkpoint Non fare scherzi Oh Manca l'ultimo ragazzi Manca l'ultimo No Non superatemi all'ultimo Non superatemi all'ultimo Ma non superato Prendi la scia Niente ragazzi Vediamo un po' Vediamo un po' Niente Terza Terza Sicuramente terza posizione Sicuramente terza posizione Ragazzi Vediamo un attimo Perché Beh All'ultimo Li stavo superando Ma giustamente Sì Terza posizione Bellissima gara Sì Loro avevano la paria Che sicuramente Io ora non mi ricordo Ragazzi Con certezza Ma sicuramente Più veloce Della Italy GTO Perché Il primo Il primo si allontanava Troppo E mi superavano Con troppa forza C'era qualcosa Qualcosa di diverso Comunque Bellissima gara Ora ne andremo a giocare un'altra Altra gara Questa volta Con le formula 1 Ora Non so ragazzi Se ci siano Dei cambiamenti Durante la gara Però Anche qui E' una gara Che ho trovato Siamo in In 5 3 2 1 Si parte subito Vai Vabbè Con la neve Come si fa Però con le formula Uh Vabbè Ok C'è la polizia Va benissimo Mi piace La polizia Ragazzi Con Con Le formula 1 Ma che gara è Non ne ho idea Tra l'altro Non funziona Neanche il turbo Non so per quale motivo Cioè io ho l'auto Assolutamente modificata Ragazzi Non lo so Gare strane Assolutamente Comunque Sono in prima posizione Non mi posso lamentare Quindi Andiamo Andiamo In maniera molto tranquilla Con queste linee di polizia Sulla mia auto Sulla brotto Ah C'era il rallentamento Non l'ho visto Quello forse Secondo me Lo sapeva Perché Non è possibile Ha sbattuto nel birillo E si va ragazzi Allora Devo stare attento A queste cose qua E vabbè Rischia lui comunque Di Oh Stavo dicendo Che rischia Mamma mia Qui ci sono i poliziotti Rischia ragazzi Una bella spinta Quello la Quindi Non lo so Allora io Comunque prendo il turbo Qui Non c'è il turbo Dell'auto Da attivare Questo è quello che Intendevo prima E io però vado Più veloce di lui Come mai Io prendo da questa parte Vai La faccio interna Ragazzi Che è scorciatoia Credo Non lo so Non lo so Comunque sono di noi In prima Allora qui c'è il rallentamento Che non mi frega Calma Ok andiamo da questa parte Checkpoint preso Birilli vari Superati Perfetto E andiamo Andiamo Dai che adesso avremo L'ultimo giro Intanto gli altri Sono indietro Ragazzi Gara stranissima Formula 1 Polizia Di notte Con la neve Mamma mia Riparti Riparti subito Riparti subito Ok anche quello Ragazzi Ha avuto qualche problema Ha preso qualche cadavere E ha sbattuto Non lo so Attenzione alla polizia Mamma mia Niente Quella lì ragazzi Allora facciamo La strada interna Vai Ok perfetto Vai così Mi sta seguendo Credo Credo di sì ragazzi Non credo abbia preso La strada esterna Però si è bloccato Con la polizia Va bene Mi sa che questa La concludiamo Forse in prima Vediamo Niente Cadaveri per favore Birilli Via 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 Ok ragazzi Ultimo checkpoint E il traguardo Andiamo Mamma mia Eh questa è stata Più breve Come gara Però Bella Bella Polizia Ragazzi che dire Spero che il video Sia piaciuto Abbiamo giocato Due gare Assolutamente particolari Poi l'ultima Non me l'aspettavo Ripeto Sono un lobby Che trovo online Ho trovato online Quindi Non so neanche Che cosa vado a giocare Però È bellissimo Non so come Non so come spiegarvelo Cioè gare Gare stranissime Ragazzi Inaspettate Che dire Io spero che il video Sia piaciuto Qui da extra Lasciate un bel mi piace E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Ciao